Benvenuti da ItalianCakes. Oggi vi mostriamo come preparare gli struffoli. Abbiamo bisogno di 700 grammi di farina doppio zero, 7 cucchiai di zucchero, 7 cucchiai di olio di semi di girasole, mezza scorza di limone, mezza bustina di lievito per dolci, 7 uova e un cucchiaio di liquore all'anice. Abbiamo setacciato in un contenitore la farina e il lievito per dolci. Abbiamo aggiunto i 7 cucchiai di olio, abbiamo aggiunto lo zucchero, la scorza di limone grattugiato, facendo attenzione di grattugiare solo la parte gialla, il liquore all'anice, le uova e andiamo ad impastare il tutto. Noi per comodità abbiamo utilizzato l'impastatrice planetaria. Al termine abbiamo concluso di impastare a mano, fino a quando l'impasto non sia ben amalgamato. Poi su un piano di lavoro andiamo a creare questi rotolini di pasta e a ricavare gli struffoli. Andiamo a scaldare l'olio. L'olio sarà pronto quando gli struffoli saliranno subito in superficie, come vedete. La temperatura sarà quella corretta e allora possiamo andare a portare tutti gli struffoli nell'olio bollente. La cottura sarà pronta quando il colorito degli struffoli sarà ben scuro. Andiamo a bollire 500 g di miele. Dopodiché andiamo a portare gli struffoli nella pentola del miele. Giriamo in questo modo tutti gli struffoli saranno cosparsi di miele. Andiamo a versare in un piatto. Abbiamo messo un bicchiere al centro per creare il caratteristico buco al centro. Prima di rimuovere i bicchieri aspettiamo che gli struffoli si siano incollati tra loro e poi andiamo a guarnire con questa Montpariglia. Vi ringraziamo per l'attenzione. Vi ricordiamo di visionare la nostra playlist di video natalizi cliccando nel riquadro a sinistra. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al nostro canale YouTube ItalianCakes. Grazie e arrivederci.